Ciao ragazzi, oggi parleremo degli H.O. Roll Gecko disegnati dal portiere del Chievo Stefano Sorrentino che ha voluto questi colori molto sgargianti per personalizzare questo guanto. Il palmo è un 4 mm aqua control pink. Il palmo è un palmo molto buono sul bagnato, ottimo anche sull'asciutto ma le sue caratteristiche migliori le esprime sul bagnato. Il taglio è un special hybrid Roll Gecko il quale combina un Roll Finger su indice e mignolo mentre un flat cut sulle altre due dita. Il dorso è sagomato in modo da aumentare la confortevolezza del guanto. Anche su questo guanto la marca portoghese ha voluto inserire il micro adjustable strap che serve ad avere una chiusura più aderente del guanto. Ora dobbiamo solo provarli. Allora dobbiamo solo provarli. Allora dobbiamo solo provarli. Come sensazioni questo guanto come abbiamo detto nella presentazione è un guanto che offre le sue migliori caratteristiche sul bagnato. Quindi dal mio punto di vista se posso dare un consiglio consiglio appunto di utilizzarlo in condizioni di pioggia oppure tenerlo molto molto inumidito durante il corso della partita in modo appunto da sfruttare questa sua caratteristica di un grip migliore sul bagnato. Il taglio, questo taglio particolare è un taglio buono perché sia dà una sensazione di avvolgimento delle dita ma comunque lascia grande libertà nel movimento della mano all'interno del guanto. È un guanto non necessitivamente pesante sul dorso per gli amanti dei guanti leggeri. Quindi per me è un buon guanto anche a livello di resistenza all'abrasione e durata nel tempo. Per altri video iscrivetevi al canale e un saluto agli amici della Sherlock Gloves.